Brutto episodio nella serata di martedì in via delle Calabrie al confine fra Salerno e Ponte Cagnano-Faiano. Un uomo di origini marocchine dopo una lite nata per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe scagliato contro la fidanzata, una ragazza di origine georgiana, procurandole una lesione al capo. Al culmine del litigio inoltre la donna ha tentato di scappare senza vestiti dalla finestra, mettendo anche in pericolo la sua incolumità. Sul posto immediato l'arrivo degli agenti della Polizia di Stato che hanno raccolto la testimonianza della vittima è rilevato alcune tracce di sangue ed uno strumento utensile che sarebbe stato usato dal fidanzato. Quest'ultimo, rintracciato ed identificato, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, dove al termine degli accertamenti è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni e violenza privata.